...di rinascimento del tempo del bilancio, perché come da un esempio da un veritale di connessione, in effetti praticamente diciamo, alle fine Sporting Club, diciamo Panta, ha un dedito nel confronto, diciamo, dell'elettrico, ma c'è una varia, se non è per 66.000 euro. Allora, per quanto riguarda il rinascimento così, ad esempio, penso che comunque il rinascimento del tempo del bilancio bisogna comunque fare, perché noi dobbiamo ricordare, mi volgo anche al Consiglio Capano, perché prima ci rappavano le quali azioni che da volte di molto rispetto diciamo, assiedi, io credo che noi siamo perseguibili se non riconosciamo il tempo del bilancio, perché noi dobbiamo ricordare, il Consiglio, che il tempo del bilancio vanno riconosciuti nel 120 giorni dalla notifica della settimana, è chiaro che nel momento in cui, diciamo, l'ente comunale dovrebbe essere la transazione con Berfigna, c'è un dettaglio di sonda che si dice che la Berfigna ci deve, diciamo, delle sonde e quindi sarà applicata, diciamo, a fare una compensazione. Grazie. Grazie, professore Ferrara.